In esposizione ci saranno 16 quadri che rappresentano alcuni degli scorci più belli del territorio trapanese a partire dalle saline e dagli antichi mulini, ma anche torri di Lignela Colombaia, simboli di Trapani e del suo legame con il mare. La mostra si potrà visitare da venerdì, giorno della inaugurazione, alla presenza di Don Liborio Palmeri, dalle 17.30 a mezzanotte, il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 sempre alla mezzanotte, domenica fino alle 20. La passione per la pittura che ho fin da piccola mi porta a dipingere i paesaggi degli scorci trapanesi alla quale sono molto legata e ritengo siano molto belli. Quindi perciò ho chiamato Trapani e le sue meraviglie. Le meraviglie per me sono i soggetti principali che più rappresentano Trapani, quindi gli scorci come la Colombaia, Torre di Ligny, le saline con i suoi mulini a vento, dove in uno stile realistico il più possibile cerco di raffigurare tutte le sfumature, le luci dei colori che ci offrono appunto i paesaggi del nostro territorio trapanese. Quindi con i suoi tramonti e con le luci particolari che noi possiamo osservare ogni giorno passando dalla strada e osservandoli. Qual è la tecnica che ha usato per questi quadri? La tecnica, o meglio le tecniche, sono varie perché adoro sperimentare e mettere insieme più materiali. Quella principale è lo smalto all'acqua, anche insieme alla sabbia che prendo dalle nostre spiagge, mettendone insieme altri materiali che possono essere anche il gesso e la colla, come l'acrilico o l'olio, quindi creando quegli effetti che io cerco di rappresentare al meglio. I quadri in mostra in tutto quanti sono? Sono 16 dipinti, sono dipinti su vari supporti e con tecniche miste.